Il collagene naturale Platinum è specifico per il viso, collo e décolleté. È raccomandato per tutti i tipi di pelle, in particolare la pelle matura, secca e sensibile. Questo cosmetico unico è il risultato di un processo di conservazione estremamente delicato ed è costituito da soli 5 ingredienti. La maggior parte delle proteine in esso contenute sono proteine di collagene nativo accompagnate dalla preziosa elastina. È una composizione straordinaria, completa ed efficace. Concludono la sua formula il glicole caprilico e l'acqua. Tutti gli ingredienti lavorano in sinergia e svolgono un ruolo estremamente importante nella lotta contro i problemi della pelle di qualsiasi età. Il collagene naturale Platinum è caratterizzato dalla sua estrema purezza e non contiene parabeni né conservanti. La sua formula è semisolida, di un colore bianco perlescente, in gel, con delle piccole bollicine visibili. Viene estratto manualmente in maniera molto delicata dalla parte più delicata e chiara della carpa argentata, cioè dalla pancia. Già dieci anni fa gli scienziati del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo dei nostri laboratori hanno creato una formula innovativa e una tecnologia di produzione che lo rende un prodotto unico. Il collagene naturale nella forma di gel è esattamente l'equivalente al collagene naturale di tipo 3 nella forma nativa. Le formule si basano sugli ultimi sviluppi in dermatologia, cosmetologia e biotecnologia, in combinazione al potere del collagene nativo di tipo 3 e ad ingredienti naturali accuratamente selezionati con le ultime innovazioni biotecnologiche, testati in termini di efficacia e compatibilità. Il collagene è la proteina più importante del corpo umano, costituisce la maggior parte delle proteine del tessuto connettivo, occhi, pelle e molti altri organi. Dopo i 25 anni di età, la quantità di collagene e il livello della sua produzione diminuiscono. La quantità di collagene che si degrada inizia gradualmente a superare la quantità di nuovo collagene che viene prodotto. Tuttavia, non dobbiamo essere passivi quando si tratta di invecchiamento. Per godere di una pelle giovane il più a lungo possibile, dobbiamo dotarla di molecole che andranno a ricostruire la sua struttura e a stimolare e supportare le sue funzioni naturali. Il collagene naturale Platinum aiuta a combattere i sintomi dell'invecchiamento prematuro e genetico del viso, collo e décolleté. Oltre al collagene ed elastina, contiene l'acido lattico, le cui piccole molecole riescono a penetrare nell'epidermide e facilitano la rigenerazione e l'idratazione. Il glicole caprilico agisce sia come idratante ed emolliente. Un acido grasso a catena corta facilita l'assorbimento del prodotto e agisce come un delicato emolliente per prevenire un'escessiva perdita d'acqua transepidermica. Il collagene naturale Platinum idrata intensamente la pelle e riduce visibilmente le rugosità, la rassoda e minimizza le rughe d'espressione. Il prodotto stimola la pelle di viso, collo e décolleté a produrre il proprio collagene, formando un film protettivo sulla pelle che ne previene la disidratazione. Esfolia delicatamente l'epidermide e ne accelera la rigenerazione, illumina, schiarisce le discromie e uniforma il colorito della pelle. Se usato regolarmente, il collagene naturale Platinum lascia la pelle morbida, la rassoda e leviga le rughe e rimodella l'ovale del viso. Il colorito della pelle diventa uniforme, la pelle ritrova luminosità, discromie ed imperfezioni sono ridotte al minimo. La pelle è notevolmente più soda ed elastica e visibilmente ringiovanita. Come dovrei utilizzare il collagene naturale Platinum per ottenere i migliori risultati? Applica una piccola quantità di gel sulla pelle pulita e umida e picchietta delicatamente. Il collagene Platinum, grazie al calore della pelle e all'acqua, viene scomposto in piccoli amminoacidi e penetra in profondità nella pelle per stimolarla. Per ottenere il massimo dei risultati si consiglia di inumidire la pelle con il prodotto acqua spray viso e corpo. Quando il collagene sarà assorbito, utilizza la crema più appropriata al tuo tipo di pelle per evitare la sensazione di tensione. Il collagene naturale Platinum può essere utilizzato durante la skin care domiciliare intensiva e durante i trattamenti estetici professionali. Conserva il collagene naturale Platinum nella sua confezione originale per preservare le sue proprietà. Il collagene naturale Platinum è veramente economico da usare. La confezione da 50 e 100 ml bastano approssimativamente per 50 e 100 rispettive applicazioni.